Andremo a Madrid a manifestare insieme alle donne spagnole che stanno organizzando una grande manifestazione per fermare la controriforma voluta dal governo conservatore che impedirebbe loro di abortire in libertà e in sicurezza. Ci saranno manifestazioni in tutta Europa, ci saranno tante manifestazioni anche in Italia e saremo anche lì, perché sui temi della maternità, su se e quando decidere di essere madre, sulla nascita, sulla procreazione, chi decide è la donna, è la donna che deve avere la prima e l'ultima parola. E questo è un principio che deve fondare la cittadinanza europea. Tutte le manifestazioni e le donne che si mobiliteranno sabato, primo febbraio, noi che andremo a Madrid, siamo lì per far ripartire un'Europa, un'altra Europa, tutt'altra Europa, l'Europa della libertà.